Benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, puntata Jolly del venerdì in cui si raccontano storie, curiosità e soprattutto vite di scacchisti del passato, scacchisti che magari al giorno d'oggi sono stati un po' dimenticati. Quindi poi ricordiamoci che la maggior parte dei giocatori che si è avvicinata agli scacchi nell'ultimo anno, grazie anche alla serie tv The Queen's Gambit, non conoscono praticamente questi grandi maestri paradossalmente degli anni in cui è ambientato la regina degli scacchi. Pensano che magari esistesse Borgov, invece no, esistevano molti giocatori fortissimi, oltre a Bobby Fischer, Spassky, Petrosyan. C'erano anche grandi maestri di altre nazioni, ma non solo sovietici, perché poi l'immaginario collettivo passa sempre un po', come dire, da un punto di vista di stereotipo. Il fatto che gli scacchi siano un gioco sovietico, un gioco russo, dove i sovietici dominavano il mondo, che non è del tutto falso, però esistevano altre scuole scacchistiche di altre nazioni molto importanti. Tra queste abbiamo quella ungherese, quella jugoslavia, abbiamo quella dei giocatori asiatici, quella argentina, quella polacca, quella inglese, quindi ce ne sono parecchie scuole, diciamo, scacchistiche. Però, tra tutte queste, quella che ha dato più fastidio, quella che ha di più intaccato un po' lo strapotere sovietico, è stata la scuola scacchistica jugoslava. La Jugoslavia, dal dopoguerra fino agli anni 90, al 92, anno della disgregazione dell'ex Jugoslavia, questa nazione era considerata una delle nazioni più importanti da un punto di vista strategico, sia nel mondo della geopolitica, essendo un paese non allineato, era un po' il cuscinetto tra i paesi capitalisti e i paesi, diciamo, del parto di Varsavia, comunisti, pur essendo la Jugoslavia una repubblica socialista, ma non era una repubblica propriamente comunista, filo sovietica. E questa Jugoslavia comunque produsse nello sport importanti risultati, soprattutto negli sport di squadra, calcio, pallavolo, soprattutto pallacanestro, pallanuoto, pallamano, insomma, sono considerati dei giocoglieri. Gli slavi, gli slavi considerati, insomma, persone furbe, persone scaltre, come anche veniva citato nella canzone di Battiato, i furbi con trabandieri macedoni, no? E persone proprio sgamate, gente con i baffi, praticamente, no? E' difficile da prenderli, insomma, per il naso. E anche a scacchi, questa qualità di essere imprevedibili, di essere così estrosi e furbi, scaltri e maliziosi, ovviamente non poteva che presentarsi. Citiamo alcuni giocatori del passato, della ex Jugoslavia, tra questi, secondo me, il più famoso di tutti è stato Svetozar Gligoric. Gligoric è nato nel 1923, è stato uno dei forti giocatori del mondo negli anni 50, 50-60. Più volte ha vinto tornei importanti, sembra che abbia battuto anche Bobby Fischer nella partita. Giocatore molto forte, ma anche da un certo punto di vista psicologico. Lui addirittura fu l'autore di un famoso detto «Non me ne frega nulla di chi ho davanti, io guardo solo i pezzi». Allora, per lui la psicologia a scacchi non contava assolutamente nulla. Era un giocatore che giocava contro quello che vedeva sulla schiena. Davanti poteva avere anche, non lo so, il conte Dracula, il mostro di Frankenstein, il lupo mannaro, però lui guardava soltanto cosa c'era sulla scacchiera. Non si può influenzare da nulla. Uomo dal sangue di ghiaccio, però artista, perché poi divenne anche compositore, commentatore radiofonico, un personaggio insomma molto conosciuto in Jugoslavia. Oltre a lui, ci sono stati altri giocatori meno conosciuti di lui, tipo Velimirovic, famoso per il suo attacco Velimirovic della Siciliana. Poi Matanovic, anche questo fortissimo giocatore tattico, Planinic, è stato un fortissimo giocatore. Poi più avanti abbiamo avuto Liuboljevic, di cui farò vedere una partita, di cui parlerò adesso. Poi abbiamo avuto Predag Nikolic, Kura Iza, Bosniac, e poi anche quando la Jugoslavia si è dissolta, insomma, questi vecchi giocatori hanno continuato a giocare nelle loro rispettive federazioni, repubbliche federali. Insomma, che dire, la scuola scacchistica slava aveva delle peculiarità, perché molti giocatori jugoslavi venivano a fare tornei in Italia fin dagli anni 70, e con la dissoluzione della Jugoslavia vennero in massa proprio a vivere in Italia e a giocare tutti i tornei open. Ricordo il grande Milorad Vujovic, giocatore della Voivodina, giocatore che faceva praticamente il barbone, viveva per la strada con un sacco di libri nel borsone, campava vendendo libri di scacchi e facendosi ospitare da persone che volevano prendere lezioni da lui. Lui in cambio delle lezioni aveva vinto alloggio gratis, era molto simpatico. Io mi ricordo le sue partite, quando andavi al circolo, ogni tanto si presentava in circoli per vendere i libri, ero ad Asti, erano i primi anni 90, io ho appena incominciato a giocare a scacchi, vedo questo signore un po' anzianotto, un po' trasandato, sembrava proprio un clochard, non è che potesse essere in giacchi e cravatta. Così con la sua tazza di caffè davanti alla scacchiera mi guarda, mi fa ehi Micco, Micco, amico, tu gioca contro il maestro internazionale jugoslavo, tu gioca 1000 lire una partita. Io ho detto, all'epoca c'erano ancora le lire, eh ma io c'ho solo 2000 lire intere, e c'era anche la broncanotta da 2000 lire. Eh beh, 2000 lire, due partite. E quindi mi ha, insomma, appioppato, cioè alla fine questa cosa qui, del prendermi queste 2000 lire, io all'epoca non lavoravo, insomma, avevo appena smesso le scuole, insomma, ero in una situazione un po' così pendente, no? Quindi ogni tanto la mamma mi dava due soldi, comprami da bere o cosa lì, li avevo usati per giocare contro Milorio Vujovic, che era un maestro internazionale. Uno che sconfisse gente che ha battuto Fischer, lui ha giocato anche con Grigoric, con Limpoljevic, Vujovic era fortissimo. E mi ricordo ancora che lui faceva così, lui giocava con un minuto e te ne dava cinque. Poi succedeva che generalmente ti massacrava, ok, ma quando magari li tenevi botta, lui cosa faceva? Praticamente lì non c'era la buono, la buono sull'orologio, era un orologio con minuti secchi, quindi non essendoci la buono, quando ti cadeva il tempo, ti cadeva il tempo. E quando Vujovic arrivava con tipo mezzo minuto, dieci secondi, e non ti aveva ancora stracciato sulla scacchiera, cosa faceva? Prendeva l'orologio, lo girava dall'altra parte, faceva la mossa, cadeva la bandierina, che rovesciando l'orologio diventava la tua, e ti diceva, Michko, mi spiace, tu grande maestro, ma tu perso per tempo. Questo era. e nessuno si lamentava, perché poi Vujovic, poverino, era già ricordo male, in realtà gli si faceva la carità, con quelle due mila lì, non lo si giocava per batterlo, poi lui a volte era anche gentile, giocava magari sotto tono, perché ad esempio è successo che, poi due anni dopo, l'ho rivisto in un altro torneo, ho giocato, perché gli ha detto, tu Michko compra il libro, e poi, allora mi fa, allora tu gioca due partite, ho giocato due partite in luglio, e le ho pattate tutte e due, però me le ha fatte pattare, sicuramente, credo, anche se all'epoca giocavo molto bene, ma non ero a livello di Vujovic, e quindi, insomma, credo che abbia giocato sotto tono, comunque per non affondare il colpo, e dopo che ho preso, lui mi fa, tu buon giocatore, tu maestro, tu, tu hai bisogno di libro per maestro, tu compra il libro, e alla fine cosa vuoi, non comprare il libro da Vujovic, ti ha fatto fare anche bella figura, lo so, erano un po' dei truschi, per più parte dei soliti, però poveraccio, viveva veramente una brutta situazione, e questo è dovuto al collo dell'ex Jugoslavia, perché lui lavorava in Voivodina in una fabbrica di lavatrici, tra le altre cose, prima dello scoppio della guerra, però torniamo, sì, tra l'altro, alla Jugoslavia, la Jugoslavia perse la sua scuola scacchistica, dopo la fine della guerra, quando si sono divise le federazioni, in quella serba, in quella croazia, in quella slovena, in quella macedona, in quella bosnia, in quella montenegrina, non ha più prodotto campionissimi, ha prodotto, ha continuato a produrre, dei maestri internazionali molto forti, qualche grande maestro, interessante, però ai livelli di primi 50 del mondo, 100 del mondo, dove una volta gli Jugoslavi erano ben presenti, qua troviamo un giocatore serbo nei primi 100, mi sembra, e uno croato, se non erro, quindi, gli scacchi in Serbia sono crollati, non si producono più campioni, e questa è una scuola che è andata un po' scompare, quella di scacchi, ovviamente. Ora, volevo parlare di Lyubomir Lyubovic, chi è Lyubomir Lyubovic? Lyubomir, è un giocatore di scacchi, è un giocatore di scacchi jugoslavo, nato nel 1950, diventato grande maestro nel 1971, a 21 anni, considerato il più forte, il giocatore della ex Jugoslavia di tutti i tempi, più forte anche di Lyubomir, perché? Perché Lyubomir divenne nel 1983 numero 3 delle classifiche mondiali. Ora, qui c'è da aprire una parentesi, perché uno può dire terzo al mondo, fortissimo, no, attenzione, negli anni 80, dall'81 al 90 praticamente, anche oltre, diciamo anche fino al 92, 93, per una quindicina d'anni, essere numero 3 del mondo, secondo me, equivaleva ad essere il numero 1 al mondo, perché i primi due posti erano occupati da due alieni, da due extraterrestri, Kasparov e Karpov. Non ci si poteva fare nulla. La vera sfida era quella di capire chi poteva ottenere il gradino della classifica mondiale, il terzo posto, ma non il terzo posto, in realtà quello era il primo posto, si era considerati i migliori giocatori del mondo se si arrivava a terzi nella classifica mondiale, perché i primi due non facevano parte degli esseri umani, ok? Quindi, negli anni 80 si sono susseguiti al terzo posto diversi giocatori, Jan Tilman, Ulf Andersson e anche questo jugoslavo, Jubomir Jubolivic. Vi è stato poco, forse nemmeno un anno, però era un giocatore veramente particolare, giocatore dallo stile naif, proprio naif jugoslavo, alla parete, e quello di Pantotti, proprio lui era naif e non era eccessivamente aggressivo, ma non era neanche posizionato. Era un giocatore atipico, chiamato il barbiere di Belgrado perché giocava proprio come se avesse un rasoio, lui distruggeva la scacchiera, ma senza farti sentire l'idea di distruzione, no, proprio come dei colpi di rasoio, lui andava a cesellare proprio in maniera anche bizzarra, con i pezzi collocati sempre sulla scacchiera in maniera assurda, e lui riusciva sempre a tirar fuori delle partite molto, molto brillanti. Ha battuto anche Kasparov in una blitz, vinse contro tutti i più forti dell'epoca, tra l'altro forse anche la bestia nera di Ulf Anderson perché ci ha vinto 3-4 partite, è stato un giocatore molto forte, soprattutto contro i giocatori occidentali, contro Timman, insomma, giocatore particolare. vinse soltanto due tornei jugoslavi, paradossalmente, mentre Gligoric ne vinse o 9 o 11, adesso non mi ricordo, però all'estero insomma, ha vinto a pari merito con Ubner se non era un Linares dell'85, ha vinto svariati tornei a pari merito con Koschnoi, è un giocatore veramente agliente. Andremo a vedere una sua partita. Visto che si sta parlando di scatti jugoslavi, volevo far vedere anche una partita insomma, della scuola jugoslava. Una partita tra due giocatori slavi, due giocatori della stessa nazione, ovvero il derby. Il derby jugoslavo per eccellenza, ovvero Liubovic con i pezzi bianchi contro Svetozar Gligoric. Quei pezzi neri, attenzione, Gligoric nel 78 aveva già 55, 79, aveva già 56 anni. Era in fase calante, anche se è stato un grandissimo. Mentre Liubovic è stato un giocatore sulla cresta, sulla breccia in quegli anni. Fecero un match, Gligoric, esputare un match e Gligoric perse 6-0 contro Liubovic. Vediamo che questa partita l'ho scelta io personalmente, no, non ho scelto le partite più famose di Liubovic. Ho voluto scegliere questa perché in questa partita si scontrano due giocatori della stessa scuola. La scuola jugoslava in più affronterà Gligoric che era la leggenda dello scacchismo jugoslavo e Gligoric giocherà una variante che porterà il suo stesso nome. Di Gligoric ricordiamo il massacro che subì da Sergio Mariotti con la famosa est indiana di cui Gligoric è stato uno dei massimi esperti mondiali di tutti i tempi e venne massacrato con l'attacco dei 13 pedoni. Mi sembra che Mariotti con la partita fece 10 mosse di pedone nelle prime 13 mosse. Ma questa partita la potete trovare su tutti i canali che voi io non faccio vedere di nuovo le cose che fanno vedere gli altri canali io voglio andare un po' più sul particolare un po' più nel dettaglio in profondità scrutare nell'animo umano cercare di far vedere insomma delle finezze diverse non la partita spettacolo qui bisogna andare a vedere anche a livello psicologico come si deve giocare a scatti perché ci si trova davanti l'avversario degli avversari no voi immaginate di essere un giovane giocatore perché all'epoca siamo nel 79 insomma non era neanche tanto giovanissimo aveva 28 anni e iubolici mentre gligorici ne aveva a 56 l'età media degli scacchisti di una volta era molto più alta di quella di oggi lì a 35 40 anni si otteneva il massimo anche 50 mentre oggi arrivi a 25 30 e già 6 comunque vi trovate davanti una leggenda vivente siete un giocatore emergente però avete l'impatto psicologico di giocare contro la leggenda anche se anzianotto insomma anche se magari non al top andiamo a vedere questa partita siamo su chest tempo perché il database il chest è saltato per aria nell'incendio in Francia insomma si può giocare a scacchi sull'icee si può esplorare le aperture ma il database quello che vi trova le partite di tanti grandi maestri del passato sono sfumate e ora ci sono soltanto partite giocate dai giocatori online o dai motori giocatori partite del 2021 delle assurdità uno vuole vedere i grandi classici uno impara gli scacchi dai grandi classici e non da queste cose ormai ormai quello che si gioca oggi è tutto costruito dalle macchine non c'è nulla di inventato no quindi capite bene ora gli uboljevic ha il bianco mentre gli uboljevic era un giocatore da 1 e 4 giocatore tagliente anche se non proprio alla tal ma era uno che amava posizioni aperte gligorice contro 1 d4 era famosissimo per l'est indiana uno dei massimi guru dell'est indiana di tutti i tempi e contro e4 spesso giocava e5 la rui lopez infatti e4 e5 questa è una partita di centro fissato diversa dal centro bloccato come nella francese o nella carocan quando c'è la variante di spinta ok cavallo f3 cavallo c6 ok cavallo f3 e lo spiego anche a chi è novizio il cavallo f3 si sviluppa per attaccare il pedone in e5 e il cavallo in c6 si sviluppa per difendere il pedone e5 ok ora il bianco ha diverse opzioni lo sviluppo del cavallo per entrare in una 3 cavalli e probabilmente in una partita di 4 cavalli oppure il vescovo in c4 per giocare la partita italiana o il vescovo b5 per giocare la partita spagnola la rui lopez all'epoca si giocava praticamente soltanto la rui lopez la partita italiana non era tanto considerata oggi invece giocano tutti la partita italiana a livello troppo perché perché la rui lopez ovvero la partita spagnola è iperteorizzata sono delle linee dopo 11 mosse puoi fare una ripetizione di mosse pareggiata ad esempio ormai hanno tirato fuori questa variante berlinese dove il nero sembra imbrigliare sempre il bianco comunque tutte le varianti sono iperteorizzate l'italiana invece è una partita dove le sfumature al centro insomma sono maggiori è una partita molto più aggressiva della spagnola che ti prende diciamo più alla lontana la spagnola è un po' più posizionale all'epoca giocavano tutti un po' più linee non essendoci motore giocavano linee classiche vescovo in b5 ok il scopo della rui lopez è quello di dare un occhio a questo cavallo il problema è che c'è una trappoletta diciamo se uno immagina dopo la rocco corto di catturare il cavallo anzi no subito poi si catturare il cavallo poi dopo la cattura col pedone di catturare questo pedone ok esiste c'è la mossa donna d4 che attacca pedone e attacca cavallo quindi non vedrete mai cercare di catturare il pedone e5 attraverso il cambio di questo cavallo ma questo vescovo generalmente o si cambia per giocare la variante aperta oppure torna indietro e gioca il piano classico della spagnola chiuse vediamo che cosa succede qui a6 quindi difesa morfi la linea più giocata fino al 2000 perché poi dopo il match tra Kasparov e Kramnik il muro di berlino l'ha fatta padrona quindi direttamente lo sviluppo di cavallo f6 che è un'altra linea magari un giorno ci farà un video anche sopra sulla berlinese che è questa variante più classica della spagnola ora o si va in a4 per poi giocare c3 mettere il vescovo in c2 spaccare il centro con d4 e aprire i due vescovi contro l'ala di re però attenzione Liuboljevic cambia il cavallo ovvero cede la coppia dei vescovi questa è la variante di cambio della spagnola ma Liuboljevic non prende il cavallo per catturare il pedone cattura il cavallo per sfaldare la struttura pedonale del nero in tempi moderni i motori hanno sentenziato che l'addoppiatura di questi due pedoni non è così dannosa per il nero anzi il nero va a stare in una situazione comoda ma all'epoca però questa variante era molto giocata soprattutto da Bobby Fischer qui si cattura sempre col pedone D quello di donna c'è una variante che cattura con B però il problema è che è un gambetto poi alla fine perché cade il pedone perché voi dovete aprire questa colonna della donna per poi nel caso di cattura del pedone andare in D4 perché se catturate con il pedone B la donna non esce ovviamente dovete catturare sempre con il pedone B e infatti il pedone D di domodossola ok bene ora qui diubovic non prenderà il pedone probabilmente arroccherà si può arroccare si può giocare D3 si può giocare C3 volendo anche se è una linea molto minore donne 2 sono tutte linee diciamo minori la linea principale prevede l'arrocco o anche cavallo C3 arrocco corto ok ora tocca a Gligorici F6 questa è la variante Gligorici fu proprio Gligorici a inventare questo tratto nella variante aperta la variante di cambio della spagnola perché questo pedone è comunque adesso che il bianco ha roccato è sotto cattura va difeso le due linee principali almeno la linea con la vecchia era semplicemente vescovo in D6 difendere il pedone però Gligorici ha trovato il modo di innovare un po' questa costruzione e di spingere pedone in F6 molti storceranno il naso perché quando create questa struttura pedonale il re soffre sulle case chiare soprattutto su questa diagonale però in questo caso siccome non c'è più il vescovo delle case chiare fate molta attenzione a questo concetto quando vi dicono non indebolite le case fatelo non indebolite ovviamente però dovete capire che quando le indebolite cosa è meglio indebolire se dovete indebolire le case bianche ovvero quelle intorno ai pedonco dovete accertarvi che l'avversario non abbia più il vescovo delle case chiare e questo è proprio il caso perché nella variante di cambio a sparire è proprio il vescovo delle case chiare per questo qui F6 è una mossa interessante niente di eccezionale non ci si stappa lo champagne però solida oggi si è tornati a giocare la variante con il vescovo in in D6 e F6 la giocano in maniera posticipata vabbè ma oggi i motori la fanno da padrone qui Liuboglievic attacca subito il centro perché Liuboglievic gioca D4 e non D3 ad esempio perché se gioca D3 se giocasse il punto è che questo vescovo non ha case importanti sull'ala di re questa struttura pedonale rimane fissata il bianco non prende il centro e il nero con tutta calma ha la possibilità di slupparsi col vescovo in E6 col vescovo in C5 o addirittura fare C5 e bloccare definitivamente la spinta in D4 insomma D3 sarebbe troppo timida ok Giuboglievic gioca D4 perché deve spaccare questa catena di pedone chiaramente il nero non può permettersi di farsi prendere questo pedone perché caderebbe tutta la posizione ora il pedone è attaccato attenzione quindi o lo si cambia o lo si difende ulteriormente col vescovo ma credo che qui bisogna cambiare perché chiaramente giocando il vescovo si cattura cattura di vescovo il nero perde la possibilità di arroccare e perde anche la coppia di vescovi che è l'unico vantaggio insomma che gli è rimasto quindi quindi qui bisogna cambiare col nero infatti Gligoric cambia e beh poi Gligoric era l'inventore di questa linea figuriamoci se non la conoscete ricattura di cavallo è possibile anche ricatturare di donna ma il problema è che se vai in un finale senza donne in nero con la coppia di vescovi è davvero comodo c5 ecco qua Gligoric esperto di questa variante dice guarda che io le donne te le voglio cambiare ti scaccio il cavallo il cavallo può andare in b3 ad esempio può tornare in f3 o venire in e2 sembra un pochino passiva vediamo che succede va in e2 perché Gliuboglio ci va in e2 probabilmente per controllare una casa f4 e non gliene frega niente di mettere il torrone pernigotti sulla colonna e perché poi dopo il cambio delle donne lui il torrone lo mette sulla d qui invita chiaramente Gligoric a cambiare le donne è un po' un controsenso e questo era Gliuboglio allora è sconsigliato andare in un finale di pezzi leggeri dove l'avversario ha ancora la coppia di l'avversario Gliuboglio è un controsenso di stranezze lui gioca controcorrente lui è sempre stato un giocatore controcorrente un giocatore bizzarro e Gligoric furbescamente dice se Gliuboglio vuol farsi cambiare le donne così facilmente gliele lasciamo cambiare ma quando voglio io ovvero deve essere lui a cambiarmi le donne per attivarmi il torrone per migotti perché ricordate che il bianco qui ha tutti tre i pezzi ancora da sviluppare il cambio delle donne del bianco adesso oltre ad avere il problema della coppia di vescovi ha il problema dello sviluppo dei pezzi dove il nero ha un fortissimo torrone per migotti sulla colonna in contrastato che è la coppia di vescovi è un centro comunque controllato in questo caso qui credo che Gliuboglio non cambierà a sua volta le donne proverà uno sviluppo col vescovi in E3 o col cavallo in C3 col vescovi in F4 insomma svilupperà un pezzo quindi c'è questo cambio delle donne latente ma che non avviene mai cavallo C3 mossa di sviluppo qui credo che Gligorice possa provare una mossa di sviluppo come cavallo in E7 perché cavallo e vescovo lì si stanno un po' intralciando il cavallo può venire comodo riciclarlo in C6 via E7 cavallo E7 cavallo C6 e poi vescovo magari o in D6 o in E7 marocco corto via via discorrendo vescovo in D6 decide di sviluppare prima il vescovo ora il cambio delle donne per il momento è stato rinviato ad alta di destinare questa mossa è importante perché vuol controllare la casa F4 questa diagonale nera qui gli Ubojivici potrebbe provare a togliere la coppia di vescovo al nero giocando vescovo F4 lo giocherà non la giocherà non lo so non lo so io la partita non l'ho cercata ma gli ho dato una rapida occhiata ma non è che l'ho sottato gli adanai di spara tra l'altro non mi ricordo più nemmeno cosa ha giocato adesso non ho una grande memoria ma non c'entra nulla qui la memoria qui non stiamo giocando memoria qui stiamo imparando i piani strategici senza giocare memoria dobbiamo capire di anticipare le loro idee cosa avevano nella loro testa il loro flusso di pensiero dobbiamo entrare nella loro testa ok bene io vescovo f4 è un pro e un contro qual è il pro il pro è che toglie a coppia di vescovi al nero ma qual è il contro il contro è che si andrà poi in un finale di due cavalli contro un cavallo e un vescovo un cavallo e un vescovo sono leggermente più forti di due cavalli quindi non lo so se gli ubolevi proverà a giocare questa mossa altra alternativa potrebbe essere cavallo f4 minacciando il vescovo delle case chiare ma il cavallo poi piazzato qui potrebbe andare in d5 dopo c6 andare in e3 il problema è che il nero controlla tutte le case da stesso non lo so altre mosse spavabile vescovo e3 è una mossa che non prende subito una decisione e poi magari minacciare f4 provando ad andare ad attaccare al centro diamo un po' e no gli ubolevi gioca il piano insomma standard di togliere la coppia dei vescovi al suo avversario ora qui molti potrebbero pensare catturo ad esempio c'è questa questa paura del giocatore più debole contro il giocatore leggermente più esperto no di giocare una partita con l'idea di pareggiare psicologicamente uno è portato a pensare che più pezzi si cambiano è più facile si appareggiare ma non è così più i pezzi si cambiano più va in vantaggio chi ha dimestichezza posizionale e chi ha una struttura migliore di pedoni chi ha i pezzi più attivi se voi cambiate il vostro pezzo migliore contro un suo pezzo peggiore non a livello numerico ma a livello di mobilità quindi voi avete un pezzo molto mobile molto bello molto attivo lo date su un pezzo che non sta facendo nulla dell'avversario state aiutando l'avversario non state cercando di pareggiare ok quindi vedo molti che vanno subito alla ricerca dei cambi a tutti i costi io sono già uno di quei giocatori che ama cambiare ma specialmente le donne poi senza donne diventa un'altra partita in cui io acquisto dei superpoteri particolari ok bene ora qui bisogna farsi una domanda il nero che farà aspetta beh chiaramente da sviluppare ancora un cavallo io svilupperei il cavallo in E7 ma dopo il cambio bisognerà capire se prendere di donna provare a cambiare le donne e poi sdoppiarci i pedoni con gioco tranquillo vediamo cosa fa il gorce infatti il gorce sviluppa il cavallo quindi non ha avuto fretta di cambiare anche perché vuole che a cambiare sia sempre il bianco ok se il bianco cambia perde mobilità di pezzi se cambia il nero la concede al bianco donna di questa mossa alla Leubolici donna di tre queste sono mosse che voi noviti non comprenderete ma non perché non siete in grado lo comprenderete quando comincerete a a capire tutta una serie di strategie negli schiacchi la donna di tre ha due scopi il primo è quello di raddoppiare la colonna mettere il torone per migotti e forzare sul punto di sei perché ora ha due difese il bianco ha due attacchi il bianco è pronto a portarne un terzo di attacco e qui insomma dopo una mossa fatta a caso non lo so una mossa come B6 arriva il torone per nigotti se il nero è costretto a cambiare e dopo il cambio delle donne torre per torre per il nero perde la possibilità di arroccare il bianco ricattura il vescovo col cavallo e attacca un vescovo sospeso insomma con posizione migliore quindi qui bisogna stare attenti a quello che si fa poi in altri dia potrebbe essere una mossa di traversino in G3 per andare a dar fastidio al possibile arrocco corto del del nero nero che in questa struttura i pedoni che è simile alla berlinese spesso può anche prendere in considerazione l'idea di arroccare lungo giocare donna di sette arroccare vediamo Gligoric cosa fa Gligoric cattura immediatamente non vuole dare il tempo agli Ubolevici di raddoppiare la colonna però a costo della propria di vescovo ora qui non c'è valutazione del motore forse da una parte è meglio così però secondo me questa è una mossa un po' azzardata troppo semplificatoria il problema è che dopo la cattura di cavallo il vescovo delle case chiare del nero dovrà andare in F7 e da lì non so ha un ottimo scopo difensivo ma nulla più i cavalli del del bianco cominciano a diventare pericolosi riprende ora qui dobbiamo chiederci che cosa fa cosa farà Grigorici cambierà le donne oppure sposterà il vescovo che è sotto attacco cambia prima le donne vuole semplifichare il gioco ora avevo detto che cavallo e vescovo contro due cavalli è meglio la prima opzione ovvero vescovo più cavallo ma su che cosa conta gli ubolevic in tutto ciò probabilmente il fatto che il nero ancora è al centro non ha ancora deciso doveva riuscire dopo la presa di pedone deve perdere un tempo spostare il vesco penso che qui catturera di pedone non credo che catturi di cavallo e invece cattura di cavallo perché prende di cavallo vuole tenere una colonna anche io avrei preso di pedone perché avrei aperto la colonna c dove ci sono i pedoni doppiati e avrei tenuto il cavallo a tenere un tempo sul vescovo che doveva spostarsi però probabilmente aveva paura di re f7 e dopo il cambio un re centralizzato ma questi giocatori avevano una capacità d'analisi che era migliore di quella di oggi è un contro allora tanti mi diranno che sto dicendo una castroneria invece a parer mio i giocatori di quegli anni avevano una capacità di analisi più profonda dei giocatori di oggi perché i giocatori di oggi preparano tutto a tavolino fino alla trentesima mossa con i motori poi i giocatori di oggi sono molto più pratici dei giocatori di 30-40 anni fa ma la profondità di analisi calcolo poi una volta si giocava due ore per 40 mosse più un'ora dopo la quarantesima mossa più la mossa in busta nel caso la partita durasse più di 6 ore e a quel punto lì si giocava il giorno dopo quindi tempo tempo c'era tempo c'era anche se mancava l'incremento e gli errori in Zeissnot arrivavano ma finché i giocatori avevano molto tempo a disposizione la profondità di analisi senza capite senza avere troppi parametri dei motori era più profonda si sbagliava di più perché chiaramente erano più umani ma loro il cervello lo facevano lavorare secondo me molto di più in partita oggi i giocatori top il cervello lo fanno lavorare molto in preparazione ma neanche tanto perché a preparare le aperture ci sono per i top GM come Carson uno staff di 6-7 giocatori altri grandi maestri che preparano i repertori di apertura Carson deve soltanto avere capacità pratica in partita ma la profondità di analisi di questi giocatori qua era impagabile secondo me Gligoric gioca una mossa furba inchioda il cavallo sulla torre non credo che voglia dare il vesco sul cavallo ma intanto paralizza questo cavallo per questo io avrei preferito la linea con la cattura del pedone ok perché il cavallo me lo sarei tenuto più comodo in F4 ora Liuboglievici ha la scelta di giocare o il torone per i gotti ne uno per provare a giocare e cinque spaccare perché tanto sulla colonna B ci mettiamo l'altra torre no? sulla D quindi credo che torre uno sia un'opzione magari Liuboglievici ha qualcosa in serbo scusate il gioco di parole essendo di Belgrado insomma no mi contraddice di nuovo ecco io e Liuboglievici non ragioniamo sulla stessa lunghezza d'onda anche perché io sono un allievo di Ulf Anderson e non Liuboglievici quindi non abbiamo in testa lo stesso a parte che lui è un grande maestro io sono una scamorza però a livello concettuale io e Liuboglievici non siamo molto simili e quindi cosa vuole fare qua? allora perché mette il torrone per nigotti qua? io qua ci avrei messo l'altro torrone per nigotti perché io questo torrone voglio tenere in E1 per spingere E5 o mi faccio il pedone passato oppure se cambia lui o cambio io mi apro una colonna lui è ancora re al centro ok? mettevo il torrone a raggi x sul re e Liuboglievici lo gioca qua un po' vediamo mossa profilattica ovviamente il pedone adesso è sotto cattura perché il torrone si è spostato il cavallo non era più inchiodato e il pedone c5 era sotto cattura quindi b6 era praticamente forzata il cambio del vescovo non era da prendere in considerazione perché il bianco andava in vantaggio dinamico e quindi non andava bene e adesso rimette il cavallo in f4 Liuboglievici era davvero non lo so come definirlo borderline non lo so un giocatore pazzesco quale? ce l'aveva già il cavallo in f4 e allora perché tutta quella c'è quel trigo di non prendere col pedone perché probabilmente lui vuole giocare tutto sulla colonna d cosa ha capito Liuboglievici? ha capito che dopo la spinta in b6 ora un cavallo in d5 difficilmente può essere scacciato con c6 perché cadrebbe il pedone b ok e eventualmente dopo un cambio di uno dei due cavalli ne piazza un altro e dopo il cambio prende di torone per nigotti pronto a raddoppiare con le torri migliori e forse migliori prospettive nel finale credo andiamo Ligorice gioca vescovo in f7 questa è una mossa che probabilmente è una mossa che impedisce perdere un tempo dopo b3 eventualmente quindi toglie subito il vescovo per non dare un punto di riferimento questo vescovo controlla quest'importante casa dove il cavallo ci potrebbe poteva saltare poteva saltare anche in h5 provare ad attaccare pedone i7 niente di pericoloso però il vescovo Ligorice se lo tiene stretto e fa bene tenerselo stretto però la posizione del nero lentamente sembra solida staticamente ma io credo che la parte dinamica stia passando lentamente dalla parte di Ligorice ora che può fare il bianco a4 per stoppare un'eventuale tempesta pedonale io giocherei a4 adesso torre d2 seguita da torre d1 per doppiare può anche star catturare subito la casa d5 con un cavallo però si semplificherebbe il gioco però casa è forte per il bianco ok Ljuboljevic mi smentisce ancora è chiaro che io non siamo sulla stessa lunghezza d'onda peccato perché a me il gioco di Ljuboljevic non è che insomma mi faccia schicco solo che io essendo un ulfista queste cose qua insomma avrei io rifatto a4 che sembrano mosse più aggressive tutti dicono che Ulf Anderson è un giocatore piatto ok però a4 qui insomma è una mossa di controllo non è tanto una mossa aggressiva ok avete visto che il cavallo è andato in c6 perché la strada che doveva fare il cavallo è 7 cavallo c6 per far giocare questo cavallo ora questo cavallo secondo me è molto forte perché può andare in e5 può andare in d4 e stoppare la colonna fortuna del bianco che ancora è il pedone c eventualmente per poi scacciare questo cavallo perché se non ci fosse stato il pedone c questa casa in d4 sarebbe stata una casa perenne per il nero quel cavallo non lo toglievi da linea anche con la dinamite ma neanche se gli davi 10 kg di biada non si spostava non andava neanche a mangiare io farei una fotografia in questa posizione perché chi è in vantaggio qui? facciamo un'analisi posizionale ok materiale pari pedoni pari pezzi leggeri pari non c'è uno squilibrio materiale questa è una cosa che dovete guardare la seconda cosa che dovete guardare è valutare le strutture pedonali le strutture pedonali qual è migliore? abbiamo strutture pedonali squilibrate ovvero il bianco ha una maggioranza di 4 contro 3 sul lato diretto il nero ha una maggioranza di 4 contro 3 sull'ala di donna qual è la maggioranza più pericolosa? generalmente la maggioranza più pericolosa è quella del lato dove non ci sono i re la maggioranza del bianco è sul lato dove c'è il re togliamo tutti i pezzi dalla scacchiera facciamo finta che i pezzi spariscono dalla scacchiera cosa succede? succede che questa maggioranza bianca andrà a sbattere nel lato dove ci sarà anche il re a difendere la minoranza dei pedoni mentre questa maggioranza è attiva sul lato dove il re è lontano ok? ma c'è un altro ma a scacchie pieno questi due pedoni sono doppiati quindi questa è una maggioranza fasulla perché in realtà è come se fossero 3 contro 3 ok? quindi io direi che come strutture pedonali leggerissimamente preferenza per il bianco perché in realtà è come se giocasse con un pedone in PV anche se non è propriamente così ma è questa doppiatura faschia in un finale di soli pedoni adesso parlo però anche il nero ha ancora delle chance vabbè leggera preferenza per la struttura pedonale del bianco che tra l'altro ha anche un pedone centralizzato mobilità dei pezzi ora prendiamo pezzo per pezzo vediamo come è la loro mobilità partiamo dai cavalli il cavallo nero per me è bellissimo perché controlla tutte le case scure è un cavallo favoloso questo cavallo del bianco è buono perché può andare in D5 questa casa qui è debole perché adesso non può fare più C6 insomma questo cavallo in D5 si colloca se viene cambiato ne colloca un altro quindi questi due cavalli sono belli questo vescovo secondo me per ora è inferiore a questo cavallo io lo in questa determinata situazione il finale cavallo e vescovo contro due cavalli sarebbe non così vantaggioso per il nero in questa determinata posizione detto questo penso che i due pezzi leggeri del bianco abbiano una leggera preferenza ma proprio di poco quindi due leggeri diamo un più 0,2 per la struttura pedonale un più 0,2 più 0,3 la mobilità dei pezzi quindi siamo a più 0,5 quindi fate finta che abbiamo un motore in testa e dice più 0,5 sicurezza del re il re del bianco è nettamente più sicuro e qui darei un altro 0,3 al al bianco qui andiamo a più 0,8 toroni pernigotti sicuramente i toroni pernigotti del nero sono ancora a casa quello del bianco sono per raddoppiare darei ancora un più 0,3 ai a mobilità dei toroni pernigotti quindi alla fine della fiera dovessimo dare un numero a questa posizione io darei un più 1,20 al bianco di valutazione vedete come fare una valutazione con i numerini del motore senza il motore voi fate anche bella figura con i vostri amici quando dicono io c'ho fate un esperimento fate e mettete il database chiamate un amico col cellulare gli dite di andare su un database scacchistico o su un programma su stockfish mettete una posizione a caso possibilmente con pezzi pari o pedoni pari un inizio di centro partita di una partita di una qualsiasi di una qualsiasi partita e fate questo gioco voi non guardate il suo cellulare e dite tu leggi il numero ma non dirmelo il numero della valutazione poi voi guardate la posizione fate questo lavoro che ho fatto io adesso e date un numero no? date uno 0,3 uno 0,2 valutazione generalmente si dà uno 0,3 nei casi di leggero vantaggio su un pezzo rispetto a un altro su una struttura pedonale rispetto all'altro poi se il vantaggio è più grosso chiaramente un pezzo in meno siamo già a a un livello di valutazione da 2,50 ok? però in questi in queste analisi posizionali generalmente capite un pezzo in meno sono due punti in mezzo in meno però queste sottigliezze date uno 0,3 lo date a uno lo date all'altro quindi poi dopo tirate fuori un numero fate un calcolo approssimativo e io credo che alla fine di questo giochetto la la differenza tra valutazione del motore e la vostra sarà minima ok? poi attenzione bisogna valutare anche se ci sono dei problemi tattici o delle mosse forzate delle combinazioni forzate quello è un altro discorso ma io in questa posizione non vedo combinazioni forzate è una posizione insomma non tattica qui retrocede il cavallo Ligoric mossa furba perché vuole impedire la conquista della casa di 5 il problema è che questo cavallo che era bellissimo da c6 in e7 non è più tanto bello e ora il nero ha il problema di far comunicare i torni per i gorghi qui cosa è successo? torniamo indietro posso tornare finito? ah si toccava il bianco ok torre raddoppi i torni per i gorghi si questo cavallo 7 sbagliato io il tasto non è tornato in e7 infatti mi sembrava strana questa mossa il cavallo è fortissimo ok raddoppiato i torni per i gorghi gioca una mossa un po' strana gioca il torrone molto passivo a difendere c7 perché? perché era paura dell'entrata in settima della torre il problema del nero che se avesse già arroccato probabilmente starebbe in una posizione più che equilibrata così il bianco ha una grossa iniziativa f3 perché gioca f3? questa non l'ho capito probabilmente non lo so vuole avere la possibilità poi con il re di uscire dalle case scure in un eventuale finale questa f3 non c'era bisogno di solidificare questo pedone qui forse gli ubo gli vicini dà l'idea che vuole andare in un finale giocando f3 perché sta preparando la centralizzazione del re finalmente arrocca il gorgio ora vediamo se gli ubollifici mette le tori in settima non credo no è possibile mettere la tori in settima ma a che scopo la tori in settima adesso non avrebbe tanta tanta forza oppure uno dice intanto ce la metto poi però dopo il vescovo in in e8 torna indietro qui forse è ora di catturare questa casa la casa di 5 molto di qua no centralizzare sta anticipando il finale torrone per nigotti ma è possibile proporre il cambio dei torroni per nigotti dopo tutti i cambi si andava in un finale dove però il bianco conquista la casa di 5 e i pedoni sull'ala di donna soprattutto il pedone c7 e il pedone b6 sono messi a salto di cavallo contro la casa di 5 e dopo il cambio del vescovo arriva un altro cavallo e parte un po' tutta la baracca sull'ala di donna quindi occhio a dire es semplifico semplifico sì ma attenzione semplificare in certe posizioni ed è arrivato quel cavallo in d5 Kligoric non lo prova ad avvicinare un pochino al freddo sul centro insomma mossa d'attesa g4 e improvvisamente Liubovic vedete come era Liubovic Liubovic era come quasi tutti gli slavi genio e sregolate ha fatto tutto per prepararsi al finale e adesso comincia a tirare una tempesta pedonale improvviso g4 ora Grigorice che si oppone alla colonia probabilmente un piano potrebbe essere qua togliere il cavallo per forzare un po' di cambio mentre i cavalli ne è 7 cavallo per 7 re per 7 che gioca anche il cavallo cambia col visco altrimenti cambiano i toroni per Nigo e il nero risolve dei problemi di amico Liubovic torna indietro propone il cambio dei toroni per Nigo cambio cambio ora Grigorice credo giocherà il torone per Nigo per cambiare anche questo torone perché quando c'è la coppia delle torri è un conto quando le torri sono soltanto una per parte è diverso perché la torre acquista più potenza rispetto all'altra torre se la sua mobilità è migliore con due toroni per Nigo chi è in mobilità diciamo in assenza di troppa mobilità riesce a compensare con due toroni sulla scacchiera ma con uno solo se l'altro è davvero dominante è difficile da contrastare quindi probabilmente questo torrone del bianco è da cambiare invece il glicorici il glicorici gioca sta mossa ma io non credo sia tanto buona lui si preoccupa molto della casa in d5 però probabilmente pensa che il torrone per Nigo in d7 non vada tanto bene perché lui giocherebbe re in e8 in una casa questo torrone gioca ma è statico cioè gioca da fermo praticamente h4 i ubogevici si permette l'uso di tirare avanti i p2 avanti con tutti i badilanti con calma tanto non rischia nulla glicorici stoppa un po' l'iniziativa e qui i ubogevici centralizza il suo re io credo che questo finale verrà deciso dall'attività dei due re mi crede il bianco veramente attivo i due cavalli sono veramente forti qui il bianco sta meglio i ubogevici i ubogevici prova a reagire un po' su uno dei lati non ha reazioni centrali vedete non ci sono più pedoni del nero sulle case centrali sulle due colonne centrali quindi deve per forza inventarsi qualcosa sull'ala e qui i ubogevici ah grande che mossa questa oggi questo tipo di mosse le vedete fare dei top gm ma sono mosse preparate spesso non sempre spesso sono preparate da studi fatti col motore questi erano le trovavano alla scacchiera queste cose sacrifica un pedone perché sacrifica il pedone perché vuole scassare la struttura pedonale dove c'è il re e doppiare un bruttissimo pedone e poi avanzare con il re e papparseli tutti cambio 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 re g4 questo pedone è condannato e si apre un'altra colonna quindi attenzione può riciclare il torne per nigotti da un'altra parte creare case forti per il cavallo anche sull'ad di re questa è una mossa veramente geniale geniale questo è un parolone ha già un suo perché cattura 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 ora vediamo se gli ubogevici avanzerà il re in fase perché questo pedone ragazzi è condannato questo gli ubogevici l'ha già visto dopo la spinta voi giocatori ma anche giocatori come me giocatori amatoriali insomma quando vedono che un pedone in una casa è impresa non lo giocano mai perché hanno paura di perdere materiale questo è un brutto vizio un limite mentale che hanno certi giocatori anzi i giocatori sotto le categorie magistrate perché non vedono più in là stanno attaccati al materiale qui chiaramente il gligorici vuole mettere questo cavallo piantarlo in D4 oppure provare uno scacco in E5 non lo so attiva pezzi perché la struttura pedonale è bruttissima del nero cattura il pedone e finalmente piazza un chiodoli anche se c'è ancora il pedone in C3 che può molestare questo cavallo centralizzato finalmente il cavallo il torrone pernigotti adesso può giocare anche sulla H volendo volendo c'è tante possibilità al bianco no lui gioca sulla F perché lui gioca sulla F perché adesso mette il torrone in faccia a te perché forse la sua idea è quella di spingere questi due pedoni in avanti ecco il torrone pernigotti può servire per stoppare almeno la corsa di uno dei due pedoni e qui e qui Diubovic fa una mossa che non ha cosa è sta roba si mette davanti al pedoni non lo può più spingere ma che è sta mossa dire si mette sotto scacquine sei ma questa mossa non mi sarebbe venuta in mente ma neanche sotto l'effetto di non lo so di qual sostanza è una cosa pazzesca ma neanche dopo aver bevuto una bottiglia di grappa uno vede una cosa del genere qui Grigorici attiva anche il torrone pernigotti attenzione il nero sta un po' ritrovando la quadra gli oboglievici toglie subito ogni velleità qui non ci vieni a dare un scacco ed è pazzesco come gli oboglievici adesso ho capito ma le cose le capisci dopo che le fanno e vuole ritirarsi con re in e3 e poi da e3 appoggiare la spinta di ben due pedoni mentre se rimaneva qui in g5 era solo questo pedone che poteva spingere e questo era stoppato vedete la profondità d'analisi di quei giocatori ok le partite di oggi sembrano spettacolari no perché vedete posizioni molto strampanate ma sono idee trovate dai motori sulla scacchiera i top GM di oggi difficilmente trovano sono fortissimi chiaramente ma se a parer mio i giocatori di quell'epoca lì trovavano cose sulla scacchiera che oggi secondo me non sono più abituati a trovare ok i giocatori di oggi sono molto più pratici dei giocatori di allora quello ok ok Gligorio ci prova a togliere un fastidioso cavallo al bianco finalmente prende stacasa in d5 attacca il pedone in c7 minacciando il torrone ok ora qui c6 credo sia c6 mica tanto perché c6 il cavallo va in va in c7 attacca il torrone e questo pedone c6 impedisce al torrone di difendere a6 e cade un pedone attenzione e c6 però cavallo c7 secondo me qui arriva subito eh no io io voglio che ci gioca al contrario di come giocherei che ci sta a fare il cavallo cosa vuole fare questa questa non lo so io avrei giocato il cavallo in c7 dei gusti sicuramente avrà ragione lui ha 800 700 punti elo più di me qui Gligori gioca b4 ha una mossa sospetta perché indebolisce cronicamente la casa c4 impedisce per il momento un c3 cattura cattura anche la catena dei pedoni bianchi si sfalda un po' comunque guardate Giuboglievici era proprio l'essenza aveva le physique du rôle del giocatore slavo come ha giocato questa partita la gioca c3 il cavallo non lo vuole lasciare cattura cattura ora immagino cavallo b5 credo si può infatti poi dite queste partite queste partite ma voi i Giuboglievici ad esempio se trovate qualcosa sul web se trovate qualcosa su youtube se trovate qualcosa sui social trovate le partite più belle the best games of Giuboglievici Giuboglievici cavallo perché le pronunce slava insomma si dice sempre con l'accento verso la fine allora non le trovate queste chicche voi trovate le partite quelle famose quelle coi Kasparov coi Karpov quelle con col Timman di turno magari oppure quella più bella dove ha sacrificato dei pezzi ma queste qui come fate a trovare queste la Gligorice Giuboglievici della del 79 io le vado a cercare le valuto le cerco di vedere un po' le sfumature le guardo ok a grandi linee ma senza star lì a analizzarle prima io le analizzo qui durante il video ok ma questa partita da occhio mi è sembrata subito interessante come tutto vi fa capire la forza delle case deboli delle case forti il gioco posizionale le le mosse d'attesa vi fa capire anche come giocare mosse intermedie e come entrare nei finali insomma migliori questa partita da sola credo che valga il 50% dei video sul mio canale c4 ovviamente il pedone c3 era in presa il video sarà un po' più lungo degli altri ma merita ora a Gligorice dovrà arretrare con questo cavallo dove va? in d6 in c7 no torna nella casa forte ovviamente in d4 ora il torone per nigotti del bianco potrebbe andare sulla con a b il pedone a6 è un target il pedone a6 il pedone a6 guardatelo guardate com'è brutto e la fa finalmente una mossa finalmente una mossa indovinata ma più che indovinata siamo rimasti sulla stessa lunghezza d'onda ma questa mossa avrebbe giocata anche il Fanderson qualunque stile di gioco qui un grande maestro abbia trovava questa mossa perché vedeva subito a6 che fa pietà e hai tempo a tornare indietro col vescovo tagliato fuori non ce la fai adesso torre b6 se non addirittura torre b8 per inchiudare il vescovo e poi giocare la manovra da dietro un torrone per nigotti è più forte se attacchi i pedoni a6 posteriormente no che anteriormente e no io voglio io voglio e vi dice ma tanto quel pedoni di una serie rimarrà così per sempre e migliore il cavallo cambio provo a cambiare quel forte cavallo che è l'unico pezzo forte del nero è il cavallo indiquato io lo cambio però c'è da dire che dopo il cambio si dividono di nuovo i pedoni si sdoppiano e si crea un pedone passato ma gli ubaldievici aveva tutto sotto controllo cambio non mi è piaciuto molto lui prenderà di pedone o di re credo di pedone perché sbaglierò di nuovo di pedone perché se prende di re potrebbe giocare il vescovo in d7 e minacciare la scoperta e invece prende di re chiaramente se ne frega della scoperta vescovo di 7 qui che fa qui è un questo momento critico qui spesso i giocatori sbagliano perché non sanno dove puntare per prima do uno scacco vado ad attaccare a6 attacco il vescovo però poi mi becco il doppio scacco in f6 proprio dopo che mi sposto è complicata sta roba quando avete un re a raggi x messo così se non sapete proprio cosa fare togliete il re dalla insomma da questa sorta di scoperta tutto in tempo ma iuboljevic figura iuboljevic è un giocatore dinamico ma bizzarre attacca il vescovo minacciando di catturare il scacco però qui c'è un doppio scacco torrone f6 scacco credo sia forzato no toglie il vescovo però torrone b8 inchioderebbe il vescovo è un gioco di controinchiodature di controscoperta capite quanto è ricca di tattica questa semplificazione ci sarebbe un possibile scacco di cavallo in g6 però vi non saprei da dove cominciare e iuboljevic non ne fa nessuna delle tre spinge il pedone lascia il re sotto scoperta gliene frega niente era imprevedibile iuboljevic iuboljevic prova a centralizzare questo re per togliersi probabilmente da un torre b8 molto fastidioso che avrebbe inchiodato il vescovo sul re la gioca adesso che non c'è più il re da inchiodare sembra che iuboljevic giochi al contrario di come bisognerebbe giocare a scacco scacco risposta difende il vescovo però però maggioranza 2 contro 1 sull'ala vedete che adesso 4 pedoni per parte ma il bianco ha 2 contro 1 è un pedone passato mentre quella doppiatura del nero fa sì che il nero abbia un pedone in meno in più a6 e c6 sono molto deboli ok guadagna spazio f4 così stoppa anche la debolezza queste sono mosse bellissime perché vuole impedire a tutti i costi un giorno che il nero possa occupare quella casa in g6 ora è fissata la debolezza il pedone in g7 è rattrappito è di scheletto tutto non dire paralizzato attacca il torrone per un igor di corre ora il torrone se ne va alla fine a6 era sì un target ma dopo che il vescovo è riuscito ad andare in c8 cambia target via secondo me qui torre h2 torrone h2 perchè questo pedone signori come lo difende come lo difende e qui vigorici ha abbandonato perchè ha abbandonato pedoni pari pezzi pari perchè ha abbandonato abbandonato perchè la manovra torre h2 torre h7 è imparabile se cade quel pedone sono due pedoni passati finita questa partita a parer mio anche se non probabilmente non la troverete da nessuna parte non lo so magari la trovate ma non credo su youtube sta partita di rigore ma questo è un gioiello ok il video è particolarmente lungo quindi forse sarà il caso un po' di stringere i tempi prossimi video domenica farò un video su scacchi eterodossi vedrò che cosa tirare fuori se trovo qualcosa di interessante oppure farò vedere qualche mia partita al chow up vietnamita sono gli scacchi cinesi con le pedine coperte quello è un gioco che mi ha mandato in trippi il cervello con le pedine coperte tu fai la prima mossa come se fosse il pezzo originale poi dopo lo giri lo capovolgi e ti ritrovi o un torne per nigotti o un cavallo o un elefante poi gli elefanti e i guardiani possono passare il fiume giocare in attacco è un gioco veramente mi ha mi ha veramente preso la dipendenza dal chow up imparate gli scacchi cinesi le regole e poi giocate a chow up che è più facile perché è anche un gioco di fortuna cioè è un gioco mix non c'è solo la bravura quanto anche certo che se tu giri tutte le volte i pezzi più forti poi hai un vantaggio ma a volte non basta perché poi magari l'avversario riusci a pasticciare un po' è un gioco bellissimo un gioco gioco che giuro faccio almeno 10 partite al giorno a chow up sono proprio preso da queste partite con i vietnamiti più o meno ho un bilancio di 45 vinte e 55 perse insomma come percentuale un 45% vittoria al chow up è un bel gioco ok appuntamento domenica per chi vuole esserci spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale mi raccomando probabilmente il video stasera quasi quasi che non ci sono le coppe potrei provare visto che è più lungo anticiparlo alle 22 e 30 ok ciao a tutti arrivederci ciao ciao